C'era una volta una madre con i suoi due figli rimanendo legati alla loro casa nulla gli avrebbe fatto del male là fuori il male è subtolo un passo senza corda è tutto quello che gli serve resta legato resta legato quando si è rotta la corda hai notato qualcosa? perché mi fai queste domande? mamma non ci mentirebbe mai vuole che dubiti di me ti sta manipolando no! no! quella corda è tutta la tua vita dillo! resta legato forse c'è ancora un mondo là fuori è questo il mondo no! 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 Grazie a tutti.